Primo video per farvi vedere come saranno gestiti i gameplay su questo canale Primo video girato giustamente con FIFA Street Vi farò un piccolo tutorial come saranno girati i video Vi troverò a portare il primo video su FIFA Street Poi vi porterò i video sul gioco d'avventura, non mi ricordo mai Lost Planet E poi vi porterò i video su Grand Theft Auto V A post, allora io direi di fare una cosa Manuale, Elementi Extra Subito andare a fare una cosa Manuale, Elementi, Impostazione Allora Subito, prima cosa da fare è levare la musica Saranno gestiti un po' così i miei giochi I miei giochi Mi creverò la mia squadra giustamente Intanto per iniziare farò una prima sfida Andiamo al Catano contro il Nuola Per prendere il Palermo Va bene, va bene così Nuola bianca Diverizia Sto sistemando ancora la mia stanza e da poco L'ho sistemata oggi, l'ho completata E sono fiero e orgoglioso Vi farò vedere come dicevano i ragazzi La stanza Ve la farò vedere Comunque mi è diretta Comunque mi è diretta Come mi sembra Impostato Il volumino delle cuffie E di tutto Gozzi Begnamela dell'Atlanta Spogli All right, watch out, watch out Oh. Oh. Qué error. Oh. 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 Prima video tutorial, giustamente per far vedere come saranno vestiti i miei video e costati i miei video devo portare un video assolutamente per voi per il canale, fatevi sentire con il mi piace, con le visualizzazioni se vi piacciono, se vi piacciono, anzi FIFA Street. Questa è la stazione magnifica, vedo il gioco, ma sto chiamando, domani lavorerò costantemente per portarvi un altro video, almeno il primo video in serio su FIFA Street e poi andare avanti con gli altri due giochi. infatti il primo del giorno vedo come fai in diretta, FIFA Street, calmate, cavo Ethernet, ho dovuto andare a fare un trafficone di figli oggi con un mio amico che è elettricista, vi giuro. bella partita, bella partita, non so quando mi sarà difficoltà, forse è messa, è normale. come si assai, non so quando mi sorti, per farmi resti, per farmi resti. ok, come se non mi sono mai fai in diretta, ma questo mi è vero. mamma mia che bello giustamente creerò i miei compagni metterò i video così come ne pensate come vi piace questa sedia questa postazione come sono messo a me piace tantissimo non so voi dovete dare il vostro giudizio peccato che non posso buttare più di questo per oggi mi sono sbagliato un po' tardi ho sistemato davvero tante cose ho fatto davvero tardi le persone che sono a letto non posso girare attività e fare altro mi dovete accontentare per oggi ma faremo un video bellissimo con Filippo con un amico mio e con altri amici miei giocheremo 2 contro 2 1 contro 2 c'è con M con i giocatori soffi sono due minuti e trenta secondi tatania sta due in una valenza come si fatto quindi se guarda Spero che venne bene il video, grazie lo spero vivamente Oh che paura 3 gols 3 gols Nicola ciao va che f*** mamma che f*** che f*** dai dai No 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 no, non amogato A un pass Tu ha fatto molto molto Ecco a tutti Ditemi la sfida che volete vedere sul FIFA Stick, cioè sul FIFA Stick vi dovete creare la vostra squadra, io creerò la mia squadra con i miei compagni e poi volete che la lascio scassa? Dicci ancora di più oppure che vi incremento? Ma scrivete un parere vostro nei commenti in questo video, riempitolo di like, la partita è finita e non c'è segnale il punto, insomma il dollo, insomma si, cadane vincitore, comunque, ditemi come volete impostare questi video, la sfida è tutto, io vi saluto, ci vediamo alla prossima, sto staccando se è fatto una certona, vediamo come si vedono i video, spero bene, comunque ciao a tutti ragazzi, al prossimo video, bella raga, ho perso il telecomantino, ciao a tutti ragazzi